Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che se trascorri una splendida giornata, oltre che bentornati sul canale, bentornati anche nella rubrica Consigli per gli acquisti. In questo video mi voglio concentrare sul tuttocampista ivoriano, madre nazionale francese, quindi un extra comunitario, classe 1996, Maxwell Cornet, e vediamo in quali squadre della Serie A potrebbe essere utile. Prima però tenendo la notte della questione, mi raccomando, se volete al video iscritti al canale e attivate la campagna delle notifiche prima e sempre aggiornati, sui contenuti che vado a pubblicare ma parliamo giusto brevemente di Maxwell Cornet. Mancino, 179 cm, grande tecnica di base esplosività soprattutto, e soprattutto grande corsa e anche un buon feeling con il gol un giocatore che può essere definito appunto come tuttocampista, ma nel senso più ampio del termine, perché nella sua carriera ha giocato come? Alla sinistra, offensiva, come centrocampista di sinistra o fullback detta all'inglese, o meglio anche come fullback quindi ala completa, come terzino sinistro, come prima punta tipica, come esterno di destra a piedi invertito, esterno alto, oppure come fullback o centrocampista di destra a piedi invertito. Un giocatore veramente eccezionale che sa abbinare dotte offensive tra dotte offensive, in stagione 29 partite, 9 gol e 2 assist per lui con il Barley, non sempre partito rarissimo, e che è stato appunto acquistato nell'estate, o meglio a fine estate 2021 dal Lione, quindi il Barley ha acquistato questo giocatore dal Lione per una cifra attorno a 15 milioni di euro. Il Barley però è retrocesso, ergo io penso che non proprio magari 15 milioni, magari 16, magari 17, però il giocatore potrebbe trasferirsi per questa somma. Quindi ho selezionato nella fattispecie 4 squadre, le quali potrebbero essere interessate appunto al calciatore, ma perché si va a contestualizzare in un'ottica di mercato e tattica ideale per queste squadre. E vi dico anche, lo stipendio se gira attorno ai 3 milioni di euro, dovrebbero essere nelle fonti che ho trovato, diceva Gross, quindi lordi. 3 milioni lordi più o meno dovrebbero essere 2 milioni e 300 mila euro netti, più o meno, ma comunque anche andando a considerare il Gross come netto, metti in caso che magari un po' di fonti sono state errate, 3 milioni di euro è un ingaggio pienamente sostenibile per queste squadre di Serie A, quantomeno secondo me ovviamente se puntano sul giocatore. La prima e secondo me la più adatta è l'Inter, l'Inter che perderà Persic, ha acquistato Gosens, ma una grande squadra deve avere quantomeno due giocatori di qualità per ogni ruolo. Allora, ammesso che è Gosens, non si sa se rimane di Marco, ma di Marco può essere anche il braccetto di sinistra, allora per una cifra attorno ai 15, 16, 7 milioni punterei su Cornet, contanto che rientra un Lazaro, Valentin Lazaro, che poi è un esubero, poi magari andrà a cedere e tu comunque perdi un Persic, perdi un giocatore molto importante sulla sinistra e quindi un investimentino su Cornet sarebbe veramente ottimo, anche perché ti può fare eventualmente la seconda punta, ti può fare il quinto, se magari qualche volta cambi modulo, ti può fare anche l'esterno alto, insomma un giocatore veramente utile e potrebbe essere molto funzionale per questa inter, seconda squadra, la Lazio, la Lazio in cerca di esterni, Junior Cabrali non si sa se verrà riscattato, si parla di sì, ma forse no, anche perché comunque non ha dimostrato tanto, anche perché lo spazio dedicato gli, o meglio concesso, gli è stato veramente poco, un pedo c'è la sua età, un Filippi Anders una volta un po' a discontinuo e in questo caso sarebbe perfetto Cornet perché farebbe, potrebbe fare l'esterno alto, ma allo stesso tempo se ti manca un terzino sinistro, una farti specie, un Mario Rui, lo vai a mettere lì, perché ti può garantire una grande spinta e può rappresentare eventualmente anche un futuro sulla fascia mancina, sia quella alta che quella bassa, quindi secondo me potrebbe essere veramente funzionale, certo Lutito dovrebbe scucire questi 15, 16, 17 milioni, convincere il Barley e comunque pagare questo ingaggio comunque al giocatore. Terza squadra, la Fiorentina, la Fiorentina che comunque ha un Icone che perderà un Cajon, certo l'esborso è sempre quello che vi dicevo prima, però secondo me l'investimentino potrebbe essere fatto, ma anche in questo caso, perché comunque tu avresti un giocatore utile per il 4x3 che ti può fare l'esterno alto e l'esterno basso, quindi what else potrebbe essere veramente un ottimo profilo, anche perché fondamentalmente ci vuole anche un futuro Biraghi, Biraghi comunque fa 30 anni quest'anno, non ha una vera e propria riserva, Terzic non ha convinto, ergo avere un cornet che ti può fare questo più ruolo sarebbe veramente top. Ultima squadra, l'Atalanta, l'Atalanta che anche in questo caso ormai dopo il signore di Gosens è andato in crisi sulla fascia sinistra e a volte Caspini ha schierato Bogat, però Cornel sarebbe 20 volte più adatto in quel ruolo, quindi il quinto di sinistra o il quarto di sinistra molto più funzionale rispetto a Bogat, perché comunque ti garantisce maggior feeling con il gol, gioca più di squadra Cornel, non è un solista come Bogat e quindi ripeto anche in questo caso potrebbe farti eventualmente l'esterno a tutta fascia o magari se qualche volta utilizzi il Gasperini, dovresti utilizzare il 3-4-1-2 può farti anche la seconda punta che si muove attorno a Zapata, insomma le opportunità sono veramente tante e ripeto, Cornel potrebbe essere un grandissimo acquisto per la Serie A, potrebbe portare velocità, qualità, dinamismo e l'utilità tattica. Ovviamente i tifosi di queste squadre enormi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, in tal caso il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciate un like al video, iscrivetevi al carattere, fate campioni notifiche perché sempre già sui contenuti vado a pubblicare, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!